Signori! Oddio, ma tu non vedi quello che vedo io? Sto cavalcando un maiale A parte il fatto di cavalcare un maiale e prendere al guinzaglio il mio cane Cane? Si E ce l'aveva lasciato nell'ultimo episodio Non mi attacca più Si certo perchè io l'ho detto io Cosa credevi? Allanzare che dobbiamo... Dobbiamo andare in giro a uccidere Ok cosa? Certo Allora, dicevo che... Eccolo, eccolo, eccolo No, 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 mazza Chiudi la porta Attacca, cazzata Bene, ne manca uno Ah, vedi che ti attacca Ah, ah E' lui che ha te al guinzaglio Uh, mi ha lasciato... Mi han droppato una spada... No, 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 no Non facciamo errori, mi han droppato una spada strafiga Eh, ne manca uno Guarda come... Guarda come ci osserva il villager in casa inquietante Lo sente qua di zona col suo flauto lì Ah, guarda, l'ho visto Ah, ah In teoria... Eh, qua dietro sta casa In teoria, eh... Dovrebbe essere l'ultima invasione S'attacco me Ti nascondevi, eh Ti nascondevi Morto Fina No, basta No, basta No, è sgravata sta cosa dell'ingurzio Ingurzioni Già ne rendiamo conto Guarda lì Un esercito Un esercito No, quanti sono Sono tantissimi È la battaglia finale Per Asgard Per Asgard Vai cane, picchia Picchia, cagnolino, picchia Quattà Sta picchiando un botto il cagnolino Bravo, cagnolino, bravo Nooo L'ho ucciso io L'ho ucciso io No, io sono morto Cioè, sto morendo No, no, no Eeeh 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 Sto per morire Ma Bani continuano a incursionarci Sto morendo, sto morendo No, ti lascia con mezzo cuore Ti lascia con mezzo cuore Sono arrivati coi rinoceroni Bani, sono arrivati coi rinoceroni È la fine È la fine No, è la fine È la fine Niente Mi hai lasciato fightare da sol Perfetto, perfetto, sono morto Come si? No, 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 aspetta, aspetta Aia Sto fightando da solo contro i rinoceronti No, c'è uno con la scena Uccidilo, uccidilo Ma che casino, ma che casino Allora, io sto fightando due rinoceronti Un villager sopra il rinoceronte E la... No, no Capito, no? No, picchiati tutti Che strage Che strage Non sei capace a parlare, cazzo No, non so parlare C'è uno che sta scappando Eh, facevi il fighettino Oh, è il mago finale Vuoi vedere il mago finale? Vieni Sì, sono pieno di mostri Vieni adesso, lo uccido C'hai pochissimo tempo Eh, ok Mi sta inseguendo un esercito No, no, no Arrivo Madò, che ansia Madò, che ansia Sono... Dove abbiamo ucciso prima gli altri? Ok, ci sono Vieni, guarda il mago Questo è il mago Guarda cosa fa Uccidilo, uccidilo, uccidilo È il boss finale, è il boss finale Sato! No, è straforte Sì, morto Ok, dobbiamo uccidere due creature Creatura Eh, aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Cos'è sta cosa che vola? Va lì! C'è un angelo che vola C'è un angelo che vola Vabbè, ma cosa sta succedendo? Ma perché? Perché? C'è un angelo che vola Picchia! Picchia che tra poco ci muoio Picchia! No! Ma ci sono gli angeli che volano Gli angeli che vol... Va bene Vendermen è fortissimo Sì, è fortissimo Scappa in casa Eh, lo uccidi con la... L'ha ucciso Bravo, bravo, bravo Quante creature rimane? Due Scappiamo, scappiamo No, dobbiamo ucciderli tutti Manca pochissimo Ma sì! Oh! Sono i cosi che volano! Sono gli angeli demoniaci Credo Ma no, sono straforti Sì, sono straforti Ma dove sono gli ultimi due? Ma dove facciamo ucciderle quelle? No, vabbè, i tiri una botta Credo che muoiono, no? Cioè, io ne ho picchiati un paio Ma guarda che belli! Sì, no, una botta no Un paio di botte, mi sa Sì, due botte e muoiono Che figli! Sono le guamme, sai Fide, ma noi gli abbiamo distrutto la base Sono venuti a vendicarsi di una prepotenza Sì, ma tutto Tutti, sono venuti tutti, tutti, tutti Sì, ma i carripari li odio Sì, li odio Non sono capace a ucciderli Sì, è vero Hai lasciato la porta aperta! Ah, il maglielino c'è ancora Oh, lo sento Ma è qua di zona, eh? Sì, è qua vicino, però Sì, è stravicino La domanda è Dove? Perfetto, fine, basta, basta Sì! È uscita una barca con gli smeraldi Cos'è quella barca con gli smeraldi? Non mi è mai uscita Forse è una barca piena di loot Aspetta, vieni a dormire, vieni a dormire Dicevo, secondo me sia un trofeo del tipo... Ok Del tipo... Dormiamo Come dai vieni a letto Dicevo, un trofeo del tipo Ci sarà una barca nella quale ci sono i tesori Secondo me è così Escaesca Sì, sì, escaesca Ma come facciamo a ricevere informazioni su quel... Eh, non lo so L'unica è dai... I boys che mi scrivono nei commenti Esatto Per forza Per forza Sì, perché dato che non sappiamo... Sì, non sappiamo dove... Niente, esatto Niente Proviamo... Prova a salire in un punto alto che magari la vedi Oddio, guarda il creeper sul tempio! Sopra il tempio! Dove? Nooo Non provare... Non provare a farti saltare in aria Sì, infatti Non pensarci neanche Lascialo lì, lascialo lì Non ci interessa C'è quello... C'è un lama C'è il lama del tipo coi lama Il lama donna Il lama Sì, il lama ti sputa Ti sputa il lama Ah, ok Ti sputa in testa Sì, è un uomo Sì, è sputa un bot Ok Va bene Niente Quindi ci siamo salvati Per la seconda volta Da una mega incursione Abbiamo fatto tutto Ah, qua c'è da costruire le... No, dai, che brutto Costruisci delle... Fence No, no Ah, ah No Ah No Basta Fine Ok La prima parte dell'episodio è stato un delirio Nella seconda parte Andiamo a mappare alla sinistra del villaggio Sì, abbiamo 16 smeraldi Perfetti Pulitissimi No, 17 Qua c'è un altro Dicevo, andiamo a mappare alla sinistra del villaggio Ci facciamo un girettino Magari troviamo anche la barca con il loot Comunque scrivetemi nei comments Appunto come trovare la barca con il loot Ehm, quindi ci facciamo ora le cose Tanto il ferro e le robe ce le abbiamo Mettiamo a cuocere e ci vediamo dopo Allora, mappe fatte Venga signor Albano Venga, venga Chiuda, chiuda Perfetto E allora Andiamo appunto a sinistra del villaggio Credo che da qui si possa già mappizzare Vediamo la numero uno Ah, mi sa che ho sbagliato Toh, guarda Mi sa che sono andato troppo in là eh Allora, stiamo mappizzando un po' tutto il mondo Ovviamente è notte Ovviamente piove Incredibile Ma sai che lo ripeteremo in ogni episodio Che piove sempre Ma è pieno di zombie villager Lascia perdere Che poi finisce in tragedia come le altre volte E non vorremmo finisse in tragedia Quindi mappa presa Spostiamoci Tec E' un duro lavoro Ma qualcuno lo deve pur fare E poi di qualcuno siamo noi No, non guardarlo Guardarlo, guardarlo E scappa, scappa Uh bello sto posticino coi fiori e tutto Trovevamo qualcosa di interessante Ma hai mappizzato Sì sì, sto mappizzando Dobbiamo farne altre tre mi sembra Mi ricordo dopo Mi sembra C'è uno scheletro in parte Fa niente, fa niente Lei corra, lei corra Oh ma tutti tu c'è gli i mob Cioè io sto andando avanti di un tranquillo Altro villaggio A caso Sto andando avanti di un tranquillo Proprio nessuno che mi guarda Eh tutti quelli che fai spunnare Me li ritrovi Esatto, te li ritrovi te Di cattiveria E direi anche Giusto così Eh mi sa che è uno nuovo eh Però vabbè al momento Non ci interessa Ne abbiamo trovati fin troppi di villaggio Onestamente Quindi ora Davanti dovremmo trovarci Un fiumicettolo Superiamo E niente Poi torniamo a casa Con le mappe pro Oh bella che c'è la montagna Bene bene Cambiamo un po' bioma Ok allora Torni Sì ce ne torniamo indietro Le mettiamo in casa Poi basta per questo episodio Direi che è tutto Perché le emozioni Di inizio episodio Soprattutto erano troppe Quindi basta Ci serve un po' di pausa A casa Uccidiamo sti zomboidi Ok Tutta dritta Quindi non possiamo perderci Il zombitron Il zombitron Il villaggio Mi sa che è nuovo Però vabbè lasciamolo perdere dai Come non lasceremo perdere questo Tata Sata Sata Allora Ho preso le mappe Me le devo mettere qua in mano Vediamo se in teoria Questa si collega Sì perfetto Albano si collegano tutte Mi dichi mi dichi No che girati C'è un bravo Oddio c'è un bravo C'è un bravo E' un socio E' un socio Ok guarda come si collegano tutte belle Tutte giuste 17 18 Prendiamole Ok ok Vedi che c'è un nuovo villaggio Sulla 17 E l'ultima Perfetto Ce la mettiamo di qua Oh carino Carino Bene bene Prende tutto forma Prende tutto forma Quindi per questo episodio il brollo Lasciamo difendere qua il tempio Direi che ci picchiamo il creeper Che sta ballando da solo E possiamo concludere l'episodio Ok Quindi signori Vi ringraziamo Il plurale Per questa Per la visione Ma sai che non sappiamo parlare oggi Vabbè comunque vi ringraziamo per la visione Vi diamo appuntamento Eh sì è vero io non so parlare Vi diamo appuntamento Domani al solito ero avrò di un quarto Con un nuovo video E sperando Che non ci invadano anche nel prossimo Ciao